Buonasera signore e signori sono S88, benvenuti con la nona parte della nostra Nazlook Challenge Ci ritroviamo sempre all'interno del Monte Corona E a questo punto possiamo anche andare avanti Oh perfetto, è un matchup, non ci interessa, grazie se te ne puoi anche andare Allora, perfetto, un altro matchup? Eeeh, era data 1,10 Allora, se andiamo qua su, no, perchè secondo una teoria del Monte Corona Ebbe origine la regione di Sinnoh In un mondo primordiale, un mondo in cui solo il tempo scurrebbe lo spazio e ampliava Allora, troviamo questo signore che non è Wolverine come tutti voi vi immaginate Ma è uno dei cattivi del Team Plasma Ovviamente non si è ancora presentato e a noi non ci interessa Perchè per ora siamo dei buoni ragazzi e non ci interessa Appunto, siamo nel percorso del 208 Fammi vedere un po' Ok, credo che dovremmo affrontare Ecco, esatto Una Aventuri e Ero Quindi mettiamo avanti Cioe Triolo E affrontiamolo Se ti batto mi darai un po' del tuo cibo Cioè, se mi batti mi darai un po' del tuo... Ah no Un Onyx al 22 Perfetto, abbiamo finito anche... Oh, va, meno male va Abbiamo finito anche le mosse come... Idropulsar, non male Dai, Cio Triolo riesce a vincere Ok, perfetto Qualcuno di voi mi aveva detto nei precedenti commenti Dove e come si trovava il condivido esperienza in Pokémon Perla Se non erro è come su Pokémon Platino Praticamente ve lo darà l'assistente del professore Quando avrete battuto Gardenia Quindi, se vi siete persi quella parte Andatevi a rivedere la parte precedente La numero 7 in cui sconfiggo Gardenia La precedente, la parte numero 6 Non la 7 O la 7, no, la 6 E comunque sia una di queste qua Una di queste due in cui sconfiggerò Gardenia Ora non mi ricordo i numeri Anche perché era un po' che non... Eh... Come potete vedere Non... Oh, no! Era un po' che non riuscivo... Cioè, non riuscivo Non avevo un po' di tempo per registrare Sono stato un po' impegnato Quindi... Oh, un no se passe A questo punto, però, contro un no se passe Io manderei... Ci diventa al meglio Farina Boh, vediamo un po' Blocco Beh, effetto Non può scappare Siamo a pugno rapido Super efficace E' super efficace Oddio, meno male che non mi ha attaccato Meno male, veramente Meno male Farina, quasi a livello 21 Buono Qua c'è uno strumento Andiamo a prenderlo Legume usa Spaccaroccio Sbang Vediamo un po' che... Che cosa sarà Un etere Perfetto Allora Qua, in questo giardino Potremmo usare, appunto, la nostra Nazlook Challenge Perché questo è il percorso 208 Quindi, chi catturiamo? Un Bibareil Oh, questo ci interessa No Perché noi abbiamo, eh... Già Il nostro, appunto Scogliato lo legume E non possiamo catturare la sua pre-evoluzione Perché noi già ce l'abbiamo Quindi abbiamo altri due tentativi Un Bewdew Che, purtroppo, abbiamo già E verrà Preso di mira Da un attacco d'ala E l'ultimo tentativo Sarà per... Oh... Un Ralse Buono Ralse ci potrebbe Tornare utile Usiamo un Sanguisuga Che confusione Sana perché ti amo Fuoco count Ah, bene Protegge l'avversario Quindi usiamo una Mega Ball Direttamente Uno, due, tre Catturato Abbiamo catturato Ralse Perfetto Ralse ci potrebbe Tornare utile E lo chiameremo Garofano Ga... Garro... Fa... No Garofano Va, simpatico come nome Garofano Bene Garofano ovviamente Sarà nel box E a questo punto Ci sono un sacco di allenatori Però io non volevo Immediatamente affrontarli Dato che mi toccherà Diamo il Drop Pulsar E poi curiamo un po' la squadra Perché altrimenti Siamo messi un po' Maluccio No Cappero E farina Io non mi ricordo Ora i Pokémon che hanno Boh Iniziamo da questa Ralse ci potrebbe Tornare utile Especialmente Nella prossima Nella prossima palestra Perché comunque sia Sarà tutti i Pokémon Di tipo Anzi Garofano Saranno tutti i Pokémon Di tipo Lotta Quindi Penso che Cappero E Garofano Siano i più utili Cappero Sare a livello 22 E credo che si evolva Combie più veloci di me Tanto non ti si evolverà Il tuo combi Perché soltanto Quelle femmine Si evolvano Credo che si evolva In Zubart Esatto Cappero si sta evolvendo Perfetto Abbiamo anche Il nostro Golbat Ovviamente Noi non lo faremo Evolvere in Crobat Perché non Lo posso far evolvere Tramite scambio Vediamo un po' Le statistiche 45 di attacco Attacco speciale Difesa speciale Le velocità Praticamente È Paurosissimo Cioè È tutto È tutto mirato Bene Allora Prendiamo queste Buck banane E le altre Buck Sono iper eccitato Non vedo l'ora Che esca appunto Calutio di Ghost Perché questi giorni Sto rigiocando Un altro poco Insomma A Black Ops 2 Mi sto accorgendo Veramente Di che razza di gioco Che hanno creato E sta andando a peggiorare Tantissimo E non vedo l'ora appunto Che esca Perché sarà Credo un'innovazione Spero che non facci Una demenza Come questa Vabbè Io lo spero Comunque sia Uh buono Contro Mime Junior Mandiamo farina Vaniglia Scusate Perché ovviamente Utilizza Mi sa Attacchi Psichichi E io non voglio Rischiare Perfetto Farina sale A livello 21 Bonsly Questo Non mi ricordo mai Di che tipo è Mettiamo cetriolo Mi sembra terra Era Sì Mi sembra di sì Usiamo No Usiamo idro Pulsar Vediamo un po' Esatto O era terra O era roccio Non una cosa del genere Perfetto Via anche questo La cintura nera Io però la farei Retirerò Garofano E farò allenare Garofano appunto Siamo a Quoripoli Perfetto Uh Riusciamo a salvare Un Pokémon Che era scappato Il suo Buneri Da questa ragazza Sono Ileana Sono giudice Di gare Pokémon Fa in salto All'arena Virtù Perfetto Quindi dovremmo Sorbici anche L'arena Virtù Ma questo Non era però La prossima palestra Quella dei Pokémon di tipo Lotto Mi sbaglio sempre Tutte le volte Che arrivo qua Questo sembra Una scimmia Non sembra Un bambino Perché appunto Qua Dovremmo affrontare Fantina Che era maestra Di Pokémon Tipo Buio Se non ricordo male Quindi a questo punto Razz Non credo che verrà Molto utilizzato Vedremo un po' Dai Allora innanzitutto I messaggi Su Whatsapp Che bella cosa Mi scordo sempre Di mettere il silenzioso Depositiamo l'uovo Che non ci interessa E andiamo appunto A ritirare Il nostro Garofano 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 Ok Allora Vediamo Unubok Strumento Prendi No Perché io ho tolto Rapidartigli Non si sa Eccolo qua Credo che Cappero Abbia ancora Esatto Il condividi esperienza E noi Strumento Dai A Garofano Il condividi esperienza Vediamo un po' Le info Di questo Pokémon A confusione Doppio team Teletrasporto E fortuno Canto Attacco speciale 19 Non è che ha moltissimo Però vabbè Dai Può esserci utile A questo punto Andiamo davanti Vaniglia Perché ovviamente Con Morso Sarà quello che Lo utilizzeremo di più E andiamo All'arena Quaggiù Per le sfide Pokémon Perfetto Troveremo anche Nostra madre Che ci aspetta Perché se non vi ricordate male Almeno nell'anime Credo Non so poi Se è anche la verità Nel Cioè nell'anime Nel cartone Non so se anche Nell'anime Ma penso di sì Lo dopo è scontato Praticamente Prima lei faceva Le gare Pokémon Era un Campionessa Immensa Tipo Fortissima E adesso invece È in pensione E fa cagare il cazzo E a questo punto Parliamo con La nostra Fantina Che ci dice Che siamo qui per Affrontare Lei si ritirerà Nella sua palestra E noi andiamo a cercarla Palestra Abbastanza inquietante Perché Adesso lo vedremo Per chi non l'ha fatta Appunto Oh E là Come va Spirante Campione Questa palestra È molto particolare In che modo Ti chiederai Ora te lo dico Prima di tutto Dentro è buio Pesto Oh ma non preoccuparti Una torcia da darti Poi ti attendo Gli allenatori Praticamente Noi dovremmo Affrontare Gli allenatori Guardandoli Con la lampadina Se le volete evitare Non li illuminate Io però Li voglio Illuminare Perché appunto Se no Non ci sarebbe divertimento In questo caso Dato che è una ROM Siamo nel Nintendo Cioè Sul computer Vedete tutto In realtà Dovrebbe essere Tutto buio E noi con la lampadina Dovremmo andare Su questo Piedistallo Dovremmo illuminare Il piedistallo blu Guardare la figura E andare verso la porta Con quella figura Dovrebbe essere Una specie di labirinto Ovviamente Noi Avendo la La ROM Acherata Ecco Non ce l'avremo Quindi per tutti quelli Che ce l'hanno Non è hackerata Nel senso Che non si vede Cioè Che si vede tutto Per tutti quelli Che hanno Il primo coso Il primo è un quadrato Quindi almeno Andate sul sicuro Perfetto Qua affrontiamo L'altro allenatore Ehi Ti sei smarrito Esatto Un Gasly A livello 23 Perché ho usato Scintilla Non me lo chiedete Sbilla l'attacco Ti pareva strano Vanilla Quasi a livello 23 Buono Allora Qua ce n'era Un altro Questo è un po' Più grande Infatti Credo che Nel via Sia un po' Più palloso Nel senso Trovare La La porta giusta Utiamo Morso Di nuovo Su Driflin E Aveva anche Tentennato Non male Non male Sarà a livello 23 Vanilla Cosa vale Che impari Buato Ma Mi manco Guarda Ma Non No Perfetto Garofa Natale A livello 18 Driflun Di nuovo Utiamo Morso Utiamo Scintilla Adesso Ovviamente Ci colpirà Esatto A questo punto Diamogli Un Una super pozione Eccola qua E Affronteremo tutti gli allenatori Mentre per Fantina Andremo sulla prossima parte Perché Tutto in questa Non ci sta Ha un terra A livello 23 Questo ci darà un botto Oh maledizione Disse Gengar Ci darà un botto Di esperienza Esatto Misdrivas A livello 24 Vediamo un po' Ce Ce la rischiamo Noi ce la rischiamo così Esatto Infatti Abbiamo avuto La meglio Qua c'è l'ultimo allenatore Non voglio rischiare Sporchiamo un'altra super pozione E affrontiamolo Questo è un tondo Con un pallino Quindi la prima porta A sinistra Gasly A livello 21 Usiamo Morso di nuovo Ombra notturna Più veloce Gasly Strano Pensiamo No Garofa Una sala a livello 19 Perfetto Oh Hypnosi Bastardo Vediamo di attaccarlo di nuovo Proviamoci Uh Si sveglia Grande vaniglia Sala a livello 24 E un hunter A livello 24 Noi a questo punto Manderemo cetriolo Perché altrimenti Ho paura che Insomma Uh Oh Cazzo Merda Allora Mandiamo un legume Che a questo punto Non lo Non dovrebbe essere Non lo attacca Nessuno E usiamo Una bacca arancia Un disastro di raggio Tanto io non ti attacco Un'altra bacca Un'altra bacca arancia Vaniglia Bene Usa maledizione Tanto schianterà Prima o poi Lui Non può scappare Vabbè Chi se ne frega Io mi so Qualche strumento Bacca stagna Sveglia No Niente Dovrei Crepare Legume Mi dispiace Un disastro di raggio Confusi Colpisce da solo La maledizione Bla 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 Mandiamo Vaniglia Bene Riduce anche l'attacco Usiamo Morso Prendolo Mandiamo a K Esatto Perfetto Ok Allora A questo punto Non credo che ci siano più allenatori Esatto O forse questo Questo l'abbiamo affrontato Non mi ricordo Andiamo a vedere Salve Ti sei un allenatore? Sì Ma ti ho già affrontato Perfetto Quindi Nella prossima parte Andremo ad affrontare Fantina Mi sono ricordato Alla prima il nome Come al solito Io vi dico Scusate Ma la luce dove ce l'ha? Sembra che Ho un pene dorato Ok Votate Commentate Iscrivetevi Come al solito Un ciao Dash88 Ciao ragazzi